Nel weekend nel quale Fenza deciderà il futuro amministrativo dei prossimi 5 anni, torneranno in città e sulle colline le auto d'epoca del Gran Premio Nuvolari. La nuova edizione del 2020, in programma dal 17 al 20 settembre, è stata presentata in questi giorni e toccherà il territorio fentino nella prima e nella terza giornata di corsa. La competizione quest'anno vedrà in gara auto storiche costruite fra il 1919 e il 1976. 1000 km la lunghezza dell'intero percorso con partenza e ritorno a Mantova attraverso gli itinerari più scenografici dell'Italia centro-settentrionale. La trentesima edizione del Nuvolari partirà venerdì 18 da Mantova dopo la prima giornata dedicata alle verifiche tecniche ed eventi promozionali. L'arrivo è previsto la sera a Rimini. Nel pomeriggio quindi le vecchie signore passeranno da Brisighella, proveniente da Borgo Tossignano, per poi dirigersi verso Modigliana. La seconda tappa di sabato 19 settembre partirà da Rimini, arriverà a Siena e vedrà le auto tornare in Romagna passando per Arezzo e Urbino. Il 20 settembre nuova partenza da Rimini, poi l'arrivo a Faenza in mattinata e l'accoglienza in piazza da parte della scuderia Alfa Tauri, secondo un format ormai consolidato nelle ultime edizioni con l'accostamento fra autostoriche e monoposto di Formula 1 a sancire una sorta di continuità nel segno della velocità. Da Faenza le vetture si dirigeranno poi a Lugo, con Serice, Argenta, Ferrara e quindi Mantova. La sfilata sarà aperta come sempre dall'Audi intitolata Tazio Novolari. Quasi 300 ogni anno gli iscritti alla corsa, che richiama l'attenzione delle principali case automobilistiche, Jaguar, Lancia, Alfa Romeo, Ferrari, Aston Martin, Audi, Bentley, Mercedes, Ford, Buick e Chrysler. Equipaggi da tutto il mondo spesso aderiscono anche personaggi famosi ed esponente del mondo delle corse, la cui partecipazione però viene tenuta segreta fino al momento della partenza. Il Gran Premio Novolari nacque come costola della Mille Miglia dopo la scomparsa del pilota italiano.